Il veicolo per tutte le esigenze Europe Group con ECS ed EBS, società leader sul mercato da 20 anni, è specializzata nel noleggio con conducente di auto e di bus in altri settori complementari. In poco tempo e con scarso preavviso, il team è in grado di organizzare con precisione e puntualità viaggi in Italia e all'estero, trasferimenti da e per aeroporti e stazioni, tour, gite didattiche ed escursioni, meeting di lavoro, roadshow, cerimonie ed eventi di ogni tipo. Per occasioni particolari si può contare sul servizio limousine e auto d'epoca, assicurato dalle medesime garanzie di professionalità e di qualità. Europe Group offre la garanzia e la sicurezza di autisti professionisti, l'assistenza di hostess, di interpreti e di guide turistiche, il continuo supporto del proprio staff ed un innovativo metodo di prenotazione online tramite il progetto T-NET. Europe Group mette a disposizione dei propri clienti una flotta di auto, monovolume, minivan ed autobus garantita dai marchi delle più prestigiose case automobilistiche.